Lancetta indietro per spiegare un'Italia che fatica a tenere il passo. I problemi purtroppo non sono solo di oggi, però si tema paese che, dati alla mano, ha cominciato a rallentare già nei decenni che hanno preceduto la crisi globale. E nell'analisi del governatore Draghi non ci si può neppure cullare nell'idea che il male è comune, perché se è vero che la crisi c'è per tutti, non colpisce però tutti allo stesso modo. L'Italia perde competitività rispetto alle economie emergenti, ma rallenta anche nei confronti dei partner europei. La produttività è il nodo principale e se il mezzogiorno accusa difficoltà più gravi, per Draghi è evidente che tutto il territorio, in maniera uniforme, ha dibattersi nella stagnazione. E allora guardare avanti vuol dire guardare soprattutto ai giovani. L'inazione è sostenibile per un periodo anche lungo, potrebbe però generare un declino protratto. Ma quegli stessi indicatori mostrano che l'inazione ha anche costi immediati. La ricchezza è il frutto di azioni e decisioni passate. Il PIL, legato alla produttività, è frutto di azioni e decisioni prese guardando al futuro. Privilegiare il passato rispetto al futuro esclude dalla valutazione del benessere la visione di coloro per cui il futuro è l'unica ricchezza. I giovani. Ripartire dunque con attenzione al capitale umano. In questa prospettiva Draghi chiede di stabilizzare il lavoro precario per avere ricadute positive sull'intero sistema. Sbarcano a Tel Aviv le borse e le scarpe made in Marche che puntano così alla conquista di uno dei maggiori mercati medio orientali. Vediamo. Le aziende marchigiane rafforzano sempre di più la loro posizione all'estero e lo fanno sia in Europa sia in Medio Oriente. Così a Tel Aviv dieci marchi del calzaturiero italiano, in particolare marchigiano e toscano, hanno presentato un campionario di modelli donna, uomo e bambino della collezione Primavera Estate 2011. L'obiettivo a crescere il proprio ruolo nella conquista di uno dei mercati emergenti medio orientali. L'occasione un'iniziativa promossa da Lanci, l'associazione italiana dei produttori di settore in collaborazione con l'Icio e l'Istituto per il commercio estero. Un evento definito strategico, considerando in particolare la nuova vivacità del mercato israeliano. Secondo i dati dell'Icio è salito al terzo posto dopo Emirati Arabi e Arabia Saudita fra i target dell'esportazione di scarpe e borse made in Italy in Medio Oriente. E se la calzatura italiana sbarca a Tel Aviv, la Boilers, una delle aziende leader in Inghilterra nell'offerta di soluzioni per il riscaldamento, diventa di casa nostra grazie all'acquisizione da parte della multinazionale di Fabriano, Ariston Thermo Group. L'azienda, ha spiegato l'amministratore delegato Paolo Merloni, punta a crescere nei principali mercati europei e conta di generare entro dieci anni l'80% del fatturato da soluzioni ad alta efficienza e sistemi basati su energie rinnovabili.